Si intende? Sardinia è chiarissima, cioè non è il suo governo che è in conflitto con questa Sardinia, ma è il Stato italiano che ha interessi a Sardinia, con tanti che si interessano a questo popolo giusto. E' solo in occhio questa questione. Il governo non c'entra nulla, il governo è il governo del Stato e anche tutti gli interessi di questo Stato. Sono gli interessi di Sardinia, sono gli interessi di questa nazione. Un contrasto umano a questa cosa, che mentre noi in Bruxelles abbiamo spettato l'equiparazione del poligono ai teatri di guerra spenti, come è narrata una risoluzione della comunità europea. Invece no che andiamo in senso contrario. Questa logica, la muspetita custo, chissà bomba, come è esplodere in guerra, a teatro spento, cioè dopo questa guerra, e come è esplodere in esercitazione, il risultato dopo l'esplosione è uguale. Cioè quindi una bomba a frammentazione in guerra, dopo terminata l'esplosione, ha che solamente si danno di una bomba a frammentazione in Ternisco, in Afganistan, in Iraq o in Umbresia che sia. Quindi è tanto, il suo appuntamento prossimo, secondo me, è il suo processo dell'anno 6, il suo mese, il suo mese che intratta, il triolo a luglio, il suo rinvio a giudizio che probabilmente non avvene, perso, lo stisone imputato del suo disastro di guerra, che non avvene pocale motivo. Casuperitto Mariani, peritto del regime, io lo ucramo, ha dichiarato, nonostante il sincarico non serve di stato previsto, ha dichiarato, escludo il disastro ambientale a Quirla. Cioè, Fiordalisi poi l'ha ripreso, guardi che questo non è il suo incarico, lei aveva altri incarichi, di tipo tecnico, non di esprimere un giudizio da tribunale. Quindi, è importante la presenza sull'ecchia, sul processo della musei, che incominzata a Sassunnichi e venne tirata da innanzi fino a chi non emette questa sentenza. Cioè, fino a tempo, è un processo che è durato tutto il giorno e fino alla semissima di questa sentenza. E se non avvenne il suo rinvio a giudizio del suo imputato, scherennare, che venne rinviato a giudizio tutto il morto di Quirla. A Succale, noi ci abbiamo il suo dovere di anche l'onore.